eh? adesso provo a mandartela tagliela anche un po' al grido aspetta eh, te ne voglio mandare una bella guarda se ti piace questa guardate un po' un attimo te la fai a salvarla? eh, stiamo provando un attimo sì, salva così clicca qua sopra Greta ok adesso l'andiamo a vedere l'abbiamo salvata ma ancora ci sta mettendo per visualizzarla l'abbiamo salvata che l'hai fatta? sì, l'abbiamo salvata però adesso dobbiamo vedere dove sta allora sta qui sta qui oh, va a vedere allora apriamo eh eccola qui allora come sono? bellissima bellissima che montagne sono? gliel'hai chiesto che montagne sono queste? che montagne sono queste? sono dolomiti lasciate queste cose dove stanno le dolomiti? gliel'hai chiesto? eh? eh Greta? stanno le dolomiti le dolomiti stanno alle Alpi stanno in Alta Italia stanno in Alta Italia